il gran premio di formula 1 degli anni 80 le macchine non erano come quella di oggi il pilota è risposto proprio a pericolo la capa a sciopera fuori la macchina intanto il gran premio comunque nasce che hanno questo pilota va a fornire infatti il muro si appiccia la macchina comunque in poche parole quello che è succeduto a Niki Laudio i soccorsi arrivano a tempo tirano a chi sta in la macchina o stiano per tutto il corpo logicamente vanno all'uovo casca si sono proprio in ricchiacchissi comunque se vi sguagliate proprio in tuo bacio si rimette in moto metto l'annuncio proprio al giornale perché non c'era internet circa si meccanica autorizzata per nuova scuderia di formula 1 si presenta una filigiana non sapevo di chi avanti il primo le tue credenziali niente io ho lavorato per la Votus per la McLaren per la Mercedes vicino come prima dice sì però stritto stritto papello papello cosa vedi di strano in me un meccanico come muovere vabbè è evidente il fatto che lei non ha le orecchie vai via stuscia mamma una rischiavità di essere scottuto va a te avanti il seguito e ho lavorato per la Votus per la Volkswagen per la Ford per l'Oper e ambresso ambresso pure tu cosa avete di strano in me e non avete non avete le orecchie comunque tutto quanto la stessa cosa perché ho fatto è evidente tra sul l'Urdo ma una pulitana tantino lui buongiorno qua chissà mi ho pilato tutto in fine perché sei faticato tu veramente non sei faticato per nessuno fatica tutta l'officina colpato mette i miei marmiti sotto i motori e dice vabbè è vero pure tu papello papello che vedi di strano in me e niente tenete lento accontato ah finalmente una cosa nuova per curiosità ma chi si toca in me e r reliego ma te vele Kaava Ah 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 Ah